Ciao essere inutile alla società, oggi mi gira il cazzo, gliela tanto, facevo un video, gliela tanto Perché? Perché? Allora, un po' di, penso un po' d'anni fa, mi ero iscritto in un sito abbastanza conosciuto Un posto di nome, perché sennò poi mi rompano i coglioni Allora, quindi praticamente che è successo? Mi ero iscritto in un sito per gruppi musicali Stanno organizzando un contest di merda E questo contest, insomma, inizia a ragionare con questo, ma oggi mi gira i coglioni Mi chiamano addirittura, mi chiamano apposta perché loro vogliono sapere se posso partecipare con il mio gruppo a questo contest, capito? Loro ti chiamano, non sai te che ti iscrivi, ti chiamano loro E mi spiega un po' tutto, no? Il tipo gentilissimo, per carità, non ho nulla contro di lui, anzi Gli chiedo come funziona la votazione, cioè c'è una giuria, immagino, sicuramente Poi, e poi c'è anche il voto del pubblico Bene, allora, porca madonna Allora, non si è ancora apito un cazzo, l'avevo già fatto un video un po' d'anni fa Ma lo voglio rifare adesso, per aggiornarvi, perché non è cambiato un cazzo Allora, smettete di iscrivervi a sta merda di contest musicali Perché sono la merda dell'anima del Cristo, cane di Dio In quanto si torna sempre al solito discorso, ovvero Gesù morto è inutile, voto del pubblico, Dio cane Se uno si porta a una badilata di gente, chiaro, e poi magari Non Dio e passa a lui, perché poi c'è anche il voto della giuria Però ecco, se magari c'è gente che suona bene Però magari i loro amici o i parenti o che cazzo dovevano portare Non vanno perché c'hanno da fare, perché hanno la loro vita Non gliene frega una sega di andare a sentire il gruppo del loro amico Ma non perché il gruppo fa schifo, ma perché la gente c'ha da fare Cioè, voglio dire, non è che sono lì a andare a concerti dell'amico Perché gli deve andare a dare il voto, se non passa E la gente c'ha anche da fare, no? Se un gruppo magari è incredibile, suona di brutto Però a sentirli non ci va nessuno Non è perché il gruppo fa schifo È perché semplicemente la gente c'ha da fare, no? Porca madonna! E allora io mi chiedo Si continua ancora sta stronzata Eh ma, mi ha detto, tipo, mi ha detto Eh ma capisci che c'è un gruppo se non ha chi li segue E ho capito, ma se uno si iscrive a un contest Sarà perché vuole essere conosciuto, no? E allora se vuole essere conosciuto vuol dire che è conosciuto poco Quindi in poche lo conosceranno, questo gruppo E chi cazzo ci va a sentirli se non i parenti e gli amici del cazzo? Smettete di iscrivervi a sta merda Non iscrivetevi ai contest Sono delle stronzate per bambini rintronati di 15 anni O dei ragazzini che non sanno suonare Lasciate perdere Fate un disco Fate un disco, cercate un'erichetta Ma non fate ste puttanate Cioè, fatele se avete la badilata di gente che vi viene a votare Se c'avete la badilata di gente, bene Magari gli fa anche schifo la vostra musica La vostra musica fa vomitare l'anima del cane di Dio Però avete duemila amici che vengono lì e vi votano, no? Nonostante la vostra musica faccia schifo al cazzo Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti